buongiorno a tutti e benvenuti al nuovo sfino ad una nuova cooperazione con il bell'uomo sempre a tetris ultimeggio ha imparato il nome perché la cap... al mio track cadiamo tutti due veloce 1 2 3 ho sbagliato a schiacciare il tasto niente avete capito come si fa perché ho schiacciato giù invece dovevo schiacciare su detto questo ragazzi ovviamente scrivetemi sempre se vi sono piaciuti perché noi stiamo facendo le cose nel futuro quindi non sappiamo giusto non sappiamo esatto non lo sappiamo giochiamo in incognito quindi ragazzi no cioè che cos'è quella cosa lì perché te sei un disgraziato è qualcosa di schifoso e sei messo in mezzo i coglioni col quadrato non mi hai fatto mettere giù il robo adesso quel rumore qua è il controllo che ho posato adesso facci lei il corono blu fateci sapere se vi interessano altre sfide qua in cooperazione dato che siamo nel futuro non possiamo saperlo no futuro proprio antico e soprattutto poi fateci sapere se vorreste vedere delle sfide tra me il bell'uomo qua su tetti salti mentre io per adesso non metto mano perché altrimenti non vorrei fare brutte figure perché è sospirato ma proprio un sospiro che manco in c'era come come si chiamava francamente me ne infischio il film lì non so sa che io non guardia un film che ha 80 anni francamente me ne infischio con dico battaglio no via col vento ecco ancora questo non voglio far brutta figura bell'uomo ovviamente stiamo sempre aspettando lui che mette le robe se tu non mi rubi quelli lunghi che sappiamo che è bell'uomo ne va ghiotto di quelli lunghi se però te te sbrighi che che prendi quelli lunghi magari me ne fai in piacere e mi rubi anche quei gialli che mi occorrevano allora e te rubo questo tu rubo quello che cosa sono allora c'è un ladro denunziami all'autorità giudiciaria si fa notte ma devi fare te ciccio come vedi vedi stai tanto calpino che questa cooperazione qua adesso mi sta facendo zigari patagorri e te piglio pure questo andando io aspetto ne aspetta 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 ma hai rubato il quadrato no io sono fermo poltrone perché poltrici catena non ti vai fuori adesso è colpa mia eh si mi ha rubato quello blu ma adesso vado un attimino in speed mode altrimenti ti aspetto sto qua cambacavallo che l'erba cresce guarda devo sistemare la il buco che hai fatto te adesso ci penso io le a poco anzi te bravo 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 grazie bravo pirlo quello lì arancio lo fai passare sotto no figa me tocchiere tutto ma mi hai fatto sbagliare con la rosso a mano che mi fa fuori i buchi compattia va 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 ne ho ancora un altro si fa notte ne ho ancora un altro lungo ci tocca aspettare ne ho ancora un altro lungo eh ragazzi queste sfide di cooperazione sono proprio per chi ha pazienza ragazzi perché ovviamente dei speedmaster 3T world champion come me no della bravissimo ma io buccio da culo che ti è uscito lo stesso quello uguale mio vieni adesso mettiamoci ancora in modalità zen e devo aspettare cambia pezzo ecco mi hai rubato anche se tu non lo mettevi giù di velocità eh scusa eh sono qua che vado tranquillo t'ho rubato quello che mi serviva bro ciccio dai veloce no non mi occorre quello là ecco prendiamo questo e va là ciccio io lo dici a tua sorella hai capito che c'entra mia sorella non lo so anche io sto aspettando te ne ti tiro uno schiaffo di mal rovescio di sinistro no 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 spostati vai sorca miseria le non ti preoccupare tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio e vai a fan oh non sia scurile non ho detto nulla che se no le faccio del male fisico ah stai aspettando per te oh ti metto le mani addosso eh guarda che se mi fa guarda che se mi inalbero ancora un pochino te le metto le mani addosso davvero eh mi occorre uno blu non rubarmi quello ecco perfetto ok vedi ma avete visto ragazzi io sto fermo se si va tranquillo mi occorre uno lungo mi occorre quello rosso mi occorre quello lungo pigliati quello rosso sono già pigliato si fa notte quello aranzo prendi quello la racca puttana mettilo di là l'alto va bene lo stesso vai avanti ricordati che abbiamo quello lungo anche come riserva si l'ho messo io ecco facciamolo stagionare per bene speriamo ovviamente che poi questi video gli abbiano no no va bene mettilo tutto di là prendi qua vaffa no spostati via oh cioè ragazzi mi fa fare tutti quei errori questo io guarda cosa hai fatto io ho solo un errore tu ne hai due eh mi servirebbe però in mezzo ecco mi servireva mi servireva no innaziamo il muro oh sti cazzi mo vado un attimo veloce e chi si è visto si è visto mi occorre uno lungo che qua non posso aspettare io i tizi cornuto disgraziato babbuino schifoso te ma stavo mettendo io oh sporcazione sono mica più adesivo io tieni giù le mani guarda te penso neanche invitarmi a cena prima le brutte cose ah mio mio stiamo aspetto a te brutte cose te tiro una cinguina che te cambio connotazione in 5 minuti brutte cose no 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 ecco dopo per colpa del bell'uomo io faccio i buchi eh eh vedi oh ma io sono tutto aperto perché devi iniziare un attimino più su perché ho sbagliato io no no ok no no ah perché ti ho rubato il pezzo io ok buono no perché non è andato bene perché c'è un buco te lì mamma mia no ecco per guardare te ho sbagliato io eh siete scusa scusa se io devo guardare i disastri che combini te non è colpa mia se poi sbaglio eh 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 mettilo giù dritto storto lì no se capite bene chi 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 ne sa di giocare a a Tetis no non può anche dire le cose tuzze mettilo dritto storto dammi il pezzo che mi serve a me no perché non vado qui la situation no no non mi occorre quello lungo ragazzi sono io che faccio i numeri qui eh sì eh ma vaffan oh ho già detto una volta non sia scurile ecco ci ho toccato dentro con il tuo ho sbagliato mi eh niente ragazzi mi sa tanto che siamo arrivati a una situazione troppo alta e vaffanculo io non cedo neanche io cero miedo ma vai a pigliarlo no non sarà per colpa mia no era giusto prima e invece per colpa mia scarso per colpa tua abbiamo perso eh ragazzi questa volta la sopravvivenza è stata di 8 minuti e 36 secondi mi ha fatto meno punti non abbiamo fatto manco un tetris eh perché sei scarso ma se mi tocca aspettare quelli che fanno le robe qua si fa notte spero che questo video vi sia piaciuto dicessi se vi interessano altri video in cooperazione o se volete le batoste dietro alle orecchie con le ottiche spero che vi sia piaciuto e saluti bell'uomo saluti c'è stato a TN tu cornuto barbone